Sono Caterina Ansaldi, capolista della lista Pastorino. Sosteniamo Luca alle elezioni regionali del 31 maggio 2015. Noi proponiamo il reddito minimo di autonomia. È uno strumento concreto ed efficace per consentire una vita autonoma, dignitosa e combattere la povertà sempre crescente negli ultimi anni. La buona politica esiste ed è la nostra. Con più trasparenza possiamo contrastare i conflitti di interessi, i rapporti poco chiari tra i poteri economici, la corruzione e l'illegalità. Il commercio, la cultura e il turismo sono un punto fondamentale del nostro programma e devono diventare l'attività regionale a maggior generazione di pille. Dobbiamo sostenere il commercio, dobbiamo difendere i piccoli esercizi contenendo la liberalizzazione selvaggia e contrastare l'espansione sregolata della grande distribuzione. Il 31 maggio vota Lista Pastorino.